Per 7 anni ho avuto il conto qui, ho chiesto un piccolo mutuo, sapete che mi hanno risposto? Hanno detto che non me la concedevano, perché non sono affidabile, hai capito? È stata la mia banca per anni, per 7 anni Mi scusi, mi scusi signore, mi scusi, il suo credito come funziona? Ha concesso un mutuo? Sì, lui le offre le garanzie, si vede dalla faccia all'aria di un cliente con una posizione solida Quella è la faccia che deve avere una persona economicamente affidabile Ecco come mi sono messo nel mondo, e voglio essere economicamente affidabili, no? Sì? Lo ringrazio per acerci per mano Quanto questo? Costa solo 3 dollari 7 anni Gli ho chiesto un mutuo, un piccolo mutuo, sapete cosa mi hanno detto? Che io non ero economicamente affidabile Andiamo, andiamo, forza, via Io dico se gli avessi chiesto un registro Sono solo 3 dollari, signore Dammi il cantello, vieni con noi Ecco, io lo sappiamo Ora vado con loro Per momento, signori Guardate tutti, me ne vado Ecco quello che succede, uno che non è economicamente affidabile Grazie Prego, signore State attenti Non fatemi parlare Addio a tutti Addio Non dimenticarmi Mi scusi, abbia pazienza Non so se se ne è accorto, ma ci sono altri che devono telefonare Davvero? Certo Altri che vogliono telefonare Lei è un egoista e un incivile È un peccato, perché sa cosa c'è? Ho idea che sia guasto